Fammi un cenno quando partiamo anche con la diretta. Il macchiasmo lo fai tu. Ok. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti in questa serata speciale. Un saluto anche a quelli che ci seguono da casa. Questa sera abbiamo un personaggio storico, particolare, mitico, originale, che mi ha detto, io volevo preparare un po' di domande, mi dice, no io le domande non le voglio, vado a braccio, come si suol dire. Vabbè, però due cose devo dire. Uno, che abbiamo il piacere di avere ancora, posso dire, l'ultimo socio fondatore del Fly Angling Club di Milano, quindi fondato nel 66, però ci spiegava a cena che qualche anno prima c'erano già i primi contatti con altre persone. Quindi è un onore essere qui. io già, quando avevo 17 anni, non avevo neanche la macchina. Mio padre, mi ricordo, mi portava da lui in negozio e stavo lì tutto il pomeriggio a sentire le storie di pesca. Così poi ogni tanto mi portava giù dove ci sono i box, mi faceva provare e poi mi diceva, no non sei bravo, torno a casa. Non sei bravo. Difficile che dicevo non sei bravo. Comunque, se io interrogo, qualcuno che è qua senz'altro avrà fatto più o meno la mia stessa strada, diciamo. Poi ci sono molti nuovi che magari non lo conoscono, non l'ha mai sentito, non l'ha mai visto, lo sanno di passaggi. Quindi a questo punto io ti lascio e vado via. Vai via? Vado via. Mi metto qua, di fianco. Va benissimo. Va bene. Buona serata a tutti. Ciao. Allora, ho detto che andavamo a braccio proprio perché io avrei bisogno che voi mi sollecitate che cosa vi devo dire perché sennò io non so che cavolo dire. Quindi io che cosa ci faccio qui me lo dovete dire voi che cosa io ci faccio qui perché così avremo delle domande con degli argomenti e creiamo un dialogo perché io sono un pescatore come voi. quindi abbiamo una condivisione di parlare di pesca. Quindi direi cominciamo a farmi delle domande a qualcuno che mi faccia qualche cosa, che vuole sapere qualcosa e io sono qua. Allora, inizio io. Ecco, bravo. Ha detto che andava via. C'era. No, no, ma deve stare qua a aiutarmi. Devono stare qua a aiutarmi. Gianni, volevi fare una domanda? Voi Gianni, voglio sapere come hai incominciato a pescare. Vabbè, io ho cominciato da ragazzino. Prima della prima guerra più unica allora. Negli anni 50. Negli anni 50 andavo a pescare, prendevo il tram, andavo a piazzare Corvetto, facevo due chilometri a piedi e c'era il porto di mare. Il porto di mare era una cava che avevano fatto nel periodo fascista probabilmente per scavare la torba e quindi era una cava con alghe intorno, con dentro persici, luci, scardole, pesci di lago, insomma. E da ragazzino ho cominciato a pescare un po' col cucchiaino, un po' con la cannetta, però mi accorgevo che quello che mi divertiva è di vedere il pesce che mi aggrediva l'esca. Quindi quello era il mio divertimento, cioè soddisfare l'organo principale che era la vista. Quindi ho cominciato a capire che questi pesci, che erano anche dei persi citrota, dei boccaloni, che avevano messo dentro, ripeto, forse, infatti il boccalone mi pare che sia arrivato in Italia, il pesce americano era arrivato nel periodo fascista, o prima, adesso non lo so quando è. E quindi i pesci che venivano in superficie mi soddisfavano di più. E poi c'era un altro discorso che non andavo a comprare le esche e quindi ho cominciato a fare delle mosche, ho cominciato a fare degli ami vestiti di piume, addirittura faccevo la testa col catrame per fare una testa nera e roba del genere e ho cominciato a pescare in superficie. Quindi da lì e poi andare sul fiume che allora erano a breve distanza, che erano 30 km, che sono il Ticino e l'Adda e roba del genere, e pescare in superficie è stato il primo momento per pescare in superficie, a Mosca. Tu dici vuoi sapere invece quando ho cominciato a pescare legalmente a Mosca? Questo è l'inizio di chi pesca a Mosca. E' tutta la tua iniziativa, non è che hai scopiato da qualche inglese? No, no, io ho cominciato a pescare così, cioè, allora, io ho conosciuto il papà della LIA, che è uno dei più antichi negozi di pesca di Milano, uno dei più antichi. Andavo da lui e aveva il muro del retro pieno di pezzi di canna. Pezzi di canna significa che c'era il bambù bianco, il bambù nero, il rosò francese, il tonchino, e li conoscevo tutti, no? E infatti lui mi trattava un po' male perché ero un ragazzino, avevo soldi, no? Allora andavo là e prendevo i pezzi di canna e mi facevo le canne. Non queste, mi facevo le canne. E prendevo questo tonchino, tagliavo i pezzi, il cimino doveva essere di bambù, pieno di bambù bianco, quello col doppio nodo in modo che era il maschio, tutte le culture che c'erano allora, no? E per fare le ghiere era semplice, avevo un salumiere vicino a me, prendevo la latta della salsa che c'avevano, tagliavo dagli strescetti di metallo, su una punta di trappano facevo le ghiere, le saldavo e facevo le ghiere. Quindi ho cominciato a fare da me, io ho sempre fatto da me tutte le cose, ma ancora adesso quello che ho, che adopero io, deve essere fatto da me, perché mi completa il divertimento, mi completa perché c'è la nascita, lo sviluppo e il risultato, meglio di così. Quindi ho cominciato in quella maniera lì. Poi dopo è chiaro che cominci a prendere i primi libretti senza illustrazioni, stampati con tipografia e basta, francesi, e cominciavo a intravedere qualche cosa di più, l'azione parabolica, l'azione di punta, la mezza moschetta, la moschetta, poi c'era il famoso libro dell'Angelo Bruni, che era uno dei primi libri che è nato nel 1935, quasi come quando sono nato io, e quello era l'inizio. Poi dopo mi sviluppo, comincio a comprarmi qualche attrezzatura decente, ma la prendevo proprio per avere l'oggetto, ma dovevo metterci dentro il mio naso dentro lì. Poi dopo sono andato a finire nel 1960, 59-60, da venire da Ravezza, Ravezza famoso negozio di caccia e pesca, e là abbiamo cominciato a sviluppare di più la pesca mosca qui a Milano. Prima c'era poco, perché diciamo che nell'immediato dopoguerra c'era solo qualche professionista che era andato a Londra da Ardi a fare il corso, c'era qualche ingegnere, qualche architetto, qualche personaggio di quel genere lì, perché in fondo in fondo nei torrenti di montagna una volta ci andava il professionista che aveva la macchina, o se no il contadino montanaro che andava così. Ho conosciuto dei vecchi pescatori a mosca locali che hanno fatto scuola e che erano pescatori a mosca di quei momenti. La maggior parte venivano dal Piemonte, perché bene o male la divulgazione della pesca mosca in Alta Italia arrivava dal Piemonte perché erano le famiglie reali, era la regina Elena che pescava mosca e quindi diciamo che i suoi guardia pesca, i suoi istruttori erano quelli che poi divulgavano la pesca mosca nell'Alta Italia. Quindi io ho conosciuto la gente che veniva giù dal basso Piemonte, neanche dall'alto, da Bormida, Tanaro, quei fiumini, che pescavano a mosca i pesci da vendere ai ristoranti, li pescavano con la mosca da vendere ai ristoranti. Addirittura dei pescatori locali che lo facevano professionalmente avevano delle canne da 6 metri, fisse, perché allora c'erano i primi mulinelli tedeschi, ma erano più che altro da pescare col cucchiaino, e avevano la cosa di troppo di crie di cavallo che era 25-30 metri, con su 20 mosche e finché non avevano attaccato 4-5 pesci, non li tiravano su perché avevano la cassetta, la cesta da riempirla e venderla. Quindi quelli lì sono stati i primi pescatori locali, sono stati proprio i professionisti quasi. Uno addirittura il Corrado Ramella che faceva 6 mesi in Friuli e 6 mesi in Abruzzo, e lui pescava solo a mosca e io ho tutti i suoi biglietti con scritto maestro di pesca a canna, perché forse c'era anche il maestro di pescarete, e quindi quelli lì erano quelli che avevano divulgato la pesca, erano i nostri zingari, perché bene o male la cultura all'epoca era distribuita dagli zingari che viaggiavano, quelli lì erano i nostri zingari che divulgavano la pesca a mosca. Quello che ho fatto un po' anch'io da zingaro. Altre domande per favore. In Abruzzo dove? Perché io sono in Abruzzo del... Parla un po' più forte perché sono un po' più sorgo. In Abruzzo dove pescava questo signore? Mi ha detto che pescava 6 mesi in Abruzzo e 6 mesi... In Abruzzo sul Tirino, sul Sangro, che erano i due fumi principali. Il Tirino era famoso per l'allevamento di gamberi che andavano a finire in tutto il mondo. Il Sangro era un magnifico fiume. Poi c'era anche il Volturno un po' più in giù. O c'ho pescato io. Aventino? Aventino non lo so, dov'è che era? Si butta nel Sangro, venne giù dalla maiera. No, lì c'era la Zittola che andava dentro nel Volturno. La Zittola. Era un affluente. Non è che conoscessi tutto io, perché era lontano per me là. Poi? Andiamo avanti. Ditemi qualcosa, dai. Il più bel ricordo legato alla pesca in generale o alle tue esperienze di pesca? Ma i bei ricordi possono essere anche quelli di domani. Nel senso che bisogna vedere come uno prende quello sport, la pesca. Oggi c'è troppa febbre. Febbre vuol dire che vogliono pescare sempre, tutto, subito. Un po' come la fotografia. La fotografia, tu devi avere una macchina che devi schiacciare il bottone e fa tutto da sola. Invece io quando ho avuto la passione della fotografia ho cominciato a svilupparmi le fotografie in cantina, nel catino. Ho cominciato a capire che cos'era la prospettiva, che cos'era la composizione, che cos'era il diaframma, che cos'era la velocità. E il bello è quello. Quindi i bei ricordi per me sono quelli sofferti. Perché non c'è niente da fare. Perché tutto quello che soffri ti paga. Quello invece che tu hai gratis o comprato, l'hai pagato. L'hai pagato. Ma l'hai pagato in un'altra maniera. Quindi fatto bene. Domande del genere. Aiutatemi, dai. Roberto, tu hai detto che mi domandavi. Ti do tre fattori. Tre fattori. Le mosche, l'attrezzatura e l'azione di pesca. Eh cazzo, scriviamo un libro. Scriviamo un libro. Sei in diretta, non dire parolacce. Ah già, siamo in diretta. Ci devi dire l'importanza, cos'è più importante. Beh, meno male perché sono domande di pesca. Finalmente non di storia. Allora, il... Le mosche. No, allora, la risoluzione dei problemi è il dove, l'ho detto anche a quel signor. Il dove, come e quando. Cioè, significa che un artista fa una bella cosa in un momento sbagliato, non è un'opera d'arte. Se uno fa una grande stupidata in un momento giusto, diventa un'opera d'arte. Quindi, allora, prima di tutto noi, siccome abbiamo a che fare con la natura, la prima cosa che dobbiamo fare è di assoggettarsi a che cosa dice lei, la natura. Quindi, prima di tutto è il quando. Quindi, quando significa che vado in un momento che non c'è attività per una ragione o per l'altra, e poi dopo voi potete domandarmi anche quali sono le ragioni, eh? Una ragione e l'altra è negativo. Oppure vado in un momento buono, quindi è positivo. Quindi, prima di tutto il quando. Poi è il dove. Dove, nel senso che tutti vanno... Io vado a pescare in un posto gratuito dove non costa niente, vicino a 100 km da Milano, e devo accontentarmi di quello che mi dà. C'è qualcuno che fa 14 ore di macchina e va all'altro capo della Bosnia, e quello deve prendere un po' di più, perché spende un sacco di tempo e di soldi. E quindi quello lì è il dove. Il come. Il come tutti pescano a Ninfa e vadano avanti a pescare a Ninfa. Io mi accontento di pescare meno, ma sempre di soddisfare quel gusto che avevo da quando ero un ragazzo, di vedere un pece che mi rompe l'acqua e mi prende il mio artificiale. Quindi quello lì è già un discorso meraviglioso. Però non è detto, perché oggi purtroppo possiamo essere anche costretti, perché con il riscaldamento, le siccità, le acque inquinate e questo e quell'altro, le effime le sono scomparse, ce ne sono sempre meno, è un casino. E quindi può essere giusto per uno che vuole prendere i pesci sempre a tutti i costi, di pescare a fondo, perché sennò non li prende, perché non vengono su, perché non ci sono le mosche. Siamo sicuri che quella lì è pesca mosca? Eh? Siamo sicuri che quella è pesca mosca? Armando, paga la licenza, gli permettono di farla, la fa e la fanno in tanti nel mondo, e cosa ci vuoi fare? Lascialo fare. Cioè a un certo punto, io ti dicevo prima, il mio sogno di vedere un'acqua rompersi e un pesce a venire fuori, a prendere una mia esca che l'ho messa sull'acqua, in una maniera che poi vedremo come eccetera eccetera, e che questo qua vuol dire che si è fatto fregare, nel senso che si è fidato di me. Quello è un mio divertimento, poi dopo se uno quando alza la canna se lo trova attaccato, è quello un altro discorso, lascia che lo faccia. Che poi tra l'altro, se vogliamo parlare anche tecnicamente, questo tipo di pesca, parliamo anche di tecnica, questo tipo di pesca è un'azione di pesca che hanno un'azione di pesca verticale, perché loro devono raggiungere il fondo, loro lo chiamano in pesca, devono raggiungere il fondo con queste linfe o con quello che è, devono raggiungere il fondo e quindi verticale significa che hanno un certo tipo di esplorazione e hanno un certo tipo di risposta. Noi abbiamo questo mezzo di pesca che ci ha inventato nel 1700, nel 1800, che è la coda di topo, che è la frusta, e quindi questo sistema di pesca ci permette di esplorare in orizzontale la zona di pesca. Quindi loro cercano la testa della buca, che sarebbe la parte dove l'acqua ha una pressione, la colonna d'acqua lì ha una pressione verso il basso, e quindi vanno lì a pescare in verticale, sotto vetta, come dicono, in quella maniera lì. Però c'è anche l'altro pezzo di buca che loro non lo fanno perché non avendo una direzione, un coinvolgimento delle mosche, è più da esplorare come esca libera, come esca nell'acqua, che può essere, io non dico secca che deve essere per forza lì con le orecchie fuori, secca vuol dire da vedere, e io posso pescare la mosca sommersa a vista, posso pescare la ninfa a vista, quando vedo questo pesce che si disassa per prendermi l'esca, il mio risultato l'ho raggiunto. Andiamo avanti. Ah, poi dopo cosa era? La presentazione dell'esca. Beh, la presentazione è logico, la presentazione anche lì dipende anche lì dal quando e dove, il quando e dove significa che su un lucido bisogna stare attenti di come presentarla, star lontano, allungare i finali, mettere le mosche più piccole, eccetera. Nel corrente puoi arrivare più vicino e puoi mettere delle mosche più grosse, quindi la presentazione è l'habitat che te lo insegna, addirittura come avvicinarti, addirittura dove camminare. Cioè io quando metto i piedi su un ghiaietto, sto ben attento dove metto il piede, non lo metto su un sasso che è fuori più della metà della sabbia. Sai perché? Perché sotto ce n'è un altro. Io lo metto dove il sasso è almeno tre quarti sotto l'acqua, sotto la sabbia, perché sotto non c'è un altro sasso. Vedi, solo quello è già un avvicinarsi al fiume. Quindi diciamo che la pesca mosca è un insegnamento perfino di come camminare. attrezzatura, attrezzatura dovrei dire delle parolacce, meglio che non le dico, però lancia bene il coglione che tutte le canne vanno bene. No, siamo in diretta, siamo in diretta, siamo in diretta, non posso dirlo. Andiamo avanti, quindi l'attrezzatura diciamo, ci sono dei vantaggi su delle attrezzature, perché per esempio se io faccio delle fotografie, ho un obiettivo da 50 mm normale, e però in questo caso sono lì e devo fotografare e prendo dentro solo quei tre lì e io volevo prendere dentro tutti, devo avere il grand'angolo, no? Fai tre passi indietro e hai guadagnato il grand'angolo. Cioè questo discorso è la pratica, la funzione che ti toglie quello che può essere e il gusto di avere tutto, no? E l'azione delle canne? Beh, l'azione delle canne è partita con delle canne, intanto delle canne fatte di legno e allora le facevano di legno come veniva il legno, cioè secondo come era il legno facevano il tappere e lo chiamano, qua poi parlano tutti in inglese, io non so parlare in inglese, la conicità, facevano la canna, poi c'erano quelle… Beh, però in teoria la canna era pesante e quindi bene o male era lenta, una volta erano canne ad azione di pancia, no? E quindi era faticoso pescare la mosca secca, asciugarla, tenerla su, eccetera, eccetera, però si è potuto fare. Poi dopo hanno fatto delle canne un po' più rapide, poi dopo è arrivato il materiale, è arrivato nel dopoguerra è arrivata la fibra di vetro e nel settembre è venuto fuori il carbonio e il carbonio è una grande novità, è una grande cosa. Prima di tutto, parlo delle canne, va bene? Prima di tutto il carbonio è un materiale che ha la metà del peso di un altro materiale, ha un'elasticità e l'elasticità non è la mollezza, l'elasticità è il ritorno, quindi ha un ritorno eccezionale, quello che la fibra di vetro non aveva perché la fibra di vetro era un po' più morbido e quindi il carbonio scatta più leggero, indeformabile perché nell'epoca in cui era uscito il carbonio avevano la Dupondo, chi faceva le stuoie di carbonio per fare le canne, intanto le canne di carbonio, le canne di fibra vengono fatte sopra un mandrino, prendono una stuoia di fibre longitudinali del materiale che era fibra di vetro allora, che è carbonio dopo, viene avvolto sopra, viene resinato e viene messo a forno e quindi ecco sono anche labile di memoria io, perché mi ricordo quello che è successo 50 anni fa ma mi dimentico quello che stavo dicendo 3 secondi fa, appunto facevano questa stuoia di carbonio, l'avvolgevano, no, va bene, ma io stavo dicendo una cosa io, l'azione, ecco il carbonio appunto ha un bel ritorno e quindi, cazzo, è come se avessimo, continuo a dire quella parola lì, è come se avessimo appunto un legno carbonizzato e quindi temperato al massimo, quindi il carbonio esce nel 70 quando le ricerche spaziali della NASA avevano bisogno di un materiale leggero, resistente, ma soprattutto resistente alle temperature, alle alte temperature, perché loro facevano lo scudo termico dell'ogiva che scendeva con i suoi naviganti che arrivavano sulla terra, arrivava a una velocità pazzesca e tutti i metalli li fondeva tutti, e invece il carbonio diventa incandescente ma rimane in molecola, rimane, e quindi hanno trovato questo materiale che è una canonata, difatti io adesso quando lo lavoro, faccio le ghiere, eccetera, posso scaldarlo meglio del meglio della fibra di vetro e di altre cose, quindi dopo è stato inserito in tanti articoli sportivi, tennis, sci, balze da golf, eccetera, eccetera, ed è arrivato nella pesca. Adesso può anche essere di moda tornare a fare qualche canna di legno, è di moda che c'è qualcuno che fa le canne di legno, eccetera, però è un po' come la camicia di seta, è un gran bello, però a caso ti credi di stirarla, devi mettere a posto e continuo a dire, e invece le camicie sintetiche come questa, io la lavo mezz'ora asciutta, me la metto su e cammina, quindi direi che il carbonio ha fatto veramente una rivoluzione, una rivoluzione, infatti io ho avuto il piacere di parlare con Charles Ritz, perché è qualcuno che l'ha sentito nominare, il quale veniva in Italia ad Abano a fare la cura delle acque perché aveva dolore reumatico da tutte le parti e veniva lì in via Riosto vicino al negozio perché c'era un suo amico, Marchese Dal Pozzo, che era il numero tre del Fario Club, quindi Ritz aveva fatto un club di ricconi che pescavano le trote, non i temoli, i temoli glieli facevano pescare al popolo, i ricconi andavano a pescare le belle trote a Mosca Secca e avevano fatto il Fario Club, il numero uno era Ritz, il numero due era un barone tedesco, il numero tre era il Marchese Dal Pozzo che abitava lì a Riosto e io ho avuto in mano la canna, la fario club del numero tre, ho detto questo perché stavamo parlando del Fario, del carbonio, ecco e quindi sì ma perché sono andato a fine sul legno, perché parlavo del legno? Stanno tornando di moda adesso un po' le canne di... adesso le fanno adesso ma la personalità era quella là, che c'erano i nomi, i personaggi, gli americani, il Pine, il Churchill, il Winston, il Leonard, era un discorso di caccia alle streghe, perché una bella canna di carbonio effettivamente soddisfa tutto, poi oggi si ha in mano delle canne da 3 metri e pesano 60 grammi, 70 grammi, 80 grammi, 3 metri di canna, una volta una canna da 8 piedi e mezzo pesava 200 grammi, quindi direi che è un ottimo affare quello che abbiamo fatto, poco come le macchine fotografiche, insomma è un toquel di plastica però c'è dentro l'elettronica, c'è dentro per quanto riguarda la fotografia, quindi attrezzatura è quella, le cose di topo sono di plastica perché non sono più di seta da dover dargli l'unto tutte le volte che attaccavano le foglie, era un casino insomma, direi che tutto sommato abbiamo passato dei buoni periodi di attrezzatura, a me piace la canna sovraccaricata, sovraccaricata capite vuol dire che è una canna che porta la 5, la maggior parte di adesso mette sulla 4, la 3, una volta con le scuole le mettevano su delle lenze molto leggere, a me piace sovraccaricata perché imprimo una certa azione e mi risponde la canna, mi risponde e mi fa un po' il continuo della cosa di topo, la canna o la cosa di topo e il continuo della canna. Ci sono un po' di principianti Sandro, diciamogli cosa vuol dire sovraccaricare. sovraccaricare, beh l'ho detto, sovraccaricare vuol dire che se una canna, c'è una legge che si chiama, data dalla AFTMA, Associazione Factory Manufacturing Fishing, che mettono la canna su dei punti di appoggio di qua e qua sotto, mettono un certo peso e fa una flessione, quindi la flessione della canna ti dà il peso che sopporta della cosa di topo, che poi può essere distribuito sulla punta a metà o parabolica. Va bene così, meno male, vai avanti. No, intendevo sovraccaricata vuol dire. Ah, sovraccaricata vuol dire che quella canna lì porta la 5, il tecnico di che porta la 5 e uno per scanto con la 5 è a posto, però oggi le scaricano, mettono la 4, mettono la 3, perché per avere più lenza che la canna stessa riesca a sollevarla, riesca a sollevarla la canna stessa. Invece, se è sovraccaricata devi aiutarla la canna, però quando la aiuti poi ti risponde di più, perché vuol dire che l'aiuti, vuol dire che la senti di più quando è ben caricata. Però, ripeto, è una tecnica, ma è un gusto, non è una tecnica, perché tanti l'hanno fatta a te, io dico io faccio così, ma in fondo, in fondo, è una tecnica che faccio io così. Poi, Roberto, dai. Una domanda te la faccio io. Boh, bravo. Allora, penso che quelli che non ti hanno conosciuto per altri motivi come me, perché hanno qualche anno meno di te, ma insomma, ti conoscono per il triangolo, il tuo triangolo. Io vorrei capire, perché negli anni 90, quando sono venuto giù, ci ho impiegato qualche anno a capirlo, il tuo triangolo. Primo, come ti è venuto in mente? Perché, adesso che lo guardo, è un'idea, è l'uovo di Colombo, però è venuto in mente a te. E secondo, se lo vuoi spiegare, perché sicuramente a quelli nuovi… Allora, per spiegarlo, forse risparmio, perché adesso il club con dentro il Guido Scala mi ha fatto una ripresa in negozio e gli ho spiegato il triangolo. E quindi lui ha un video che pubblicherà alla fine del mese, mi ha detto, con la mia spiegazione personale del triangolo. Perché se lo spiego adesso, stiamo qua tutta la sera. No, però, almeno le idee che ti hanno portato poi… Beh, intanto io dovevo parlare di quello che era l'alimento principale dei pesci, che sono le fimere, perché la trota, bene o male, è fimerofaga, quindi è l'animale che ha i suoi parametri in fondo in fondo, dove vive lei e si nutre e fa parte del suo nutrimento principale. Quello delle fimere però è un ciclo. E io non potevo discutere con un ciclo, perché non avevamo punti di partenza e punti d'arrivo. Hai capito? Il ciclo entomologico è un ciclo. E allora, è come dire, è nato prima l'uovo o la gallina? Io devo dire, devo fissare che è nato prima la gallina, prima dell'uovo. Però, ecco, allora, ho fatto il triangolo proprio perché ha il picco e i punti di partenza. Non solo, ma in questo momento qua che ho fatto il triangolo, io lavoravo alla Vibram, la Vibram sci alpinismo, ve la ricordate, no? Vibram, quella delle sole delle scarpe. Vibram è scritto con le tre cime delle montagne, perché era una… e quindi mi sono ispirato anche in quello, hai capito? Hai capito? Non è, non è, non è, non è mai una cosa casuale. Allora, il triangolo mi ha dato la possibilità di, appunto, di far vedere il poco, quando c'è poco, pochi colori, poca presenza, poca misura, poco. Poi man mano che con la cima che è la fioritura. Non sto, ripeto, non sto a spiegarlo adesso perché se no stiamo qua. Parliamo d'altro, fatemi domande tipo questa. Possiamo dire che è un bigino di un circolpedia di pesca mosca secca? Non capisco, non ti sento bene. Il triangolo è un bigino? Ah, il bigino, ho capito, non capivo cos'è il bigino, c'è il bigino, sì, certo. È una… com'è che ci può dire? Un riassunto? Eh, un riassunto, sì, sì, sì. Io cos'è il bigino? Lo so che cos'è il bigino, ho fatto il fotolitografo io anche, eh cazzo, tutti i mestieri, ho fatto tutti i mestieri. Il bigino, è un bigino, parlatemi del bigione, dai, forza. Roberto, qua non c'è nessun altro che vuole domandarmi qualcosa, dai. Ecco Massimo. L'approccio al fiume. L'approccio al fiume. Beh, l'approccio al fiume l'ho detto perfino come si cammina vicino al fiume, quindi… Allora, allora, il fiume… Allora, no, una cosa, una cosa. Qua nessuno o pochi sanno che cos'è la colonna d'acqua. La colonna d'acqua è il punto dove… ho il punto, è il sistema di vita degli animali vertebrati che vivono nell'acqua. Quindi, difatti, noi siamo presenti con delle colonne d'acqua false, perché in passato i scienziati dicevano «Pur demi chilo detruite un metro d'eau». Ci vuole un metro d'acqua per produrre una trotta di mezzo chilo. Naturalmente. Perché ha una colonna d'acqua dove lei possa rifugiarsi nelle stagioni, nelle giornate, nei nutrimenti, nelle piene e nelle siccità. Se no, se c'è un'acqua tanta così, troviamo sulla gavala delle trattelute così. Allora, però, non sono quelle che conoscono la colonna d'acqua. E per questa colonna d'acqua io ho quel vantaggio di poter pescare dove gli altri pescono in quella maniera famosa. Io nella colonna pesco in un'altra maniera, ma da una parte, in un'altra parte della colonna d'acqua. Insomma, morale, il pesce vive in un ambiente liquido e l'ambiente liquido è un'idraulica. L'idraulica significa che il fiume ha gli ostacoli, l'acqua arriva con gli ostacoli, si alza, si alza, sorpassa l'ostacolo, ha una forza che preme verso il basso, riprende il suo percorso, si divide come può, qui è unita, si divide come può e trova l'altro ostacolo e rifà lo stesso percorso. Quindi questo avviene in un torrente in grandezza naturale tra due sassi, così. In un fiume tra un piede di terra, una diga, un albero, una curva, avvengono queste variazioni d'acqua. Quindi abbiamo dei punti in cui l'acqua preme verso il basso e quindi abbiamo la vita subacquea, le ninfe, dove pescano quelli a ninfa. Abbiamo, abbiamo, e questa è la cucina, la sala da pranzo, poi abbiamo gli altri posti dell'appartamento della trota e poi abbiamo il cortile, perché qua dove l'acqua si alza, di vita subacquea non ce n'è perché viene premuta sopra. Allora il pesce arriva lì nel momento in cui avviene quello che vi spiego adesso. Il ciclo dell'effemere. È nato prima l'uovo, prima la gallina. Pensiamo all'uovo, alla gallina. C'è un'effimera perfetta che vola, vola perché preventivamente è venuta fuori dall'acqua, vola e deve mettere le uova nell'acqua per far sì che queste uova raggiungano dentro il fondo. Se me le mette qui, appena mi ha messo dentro le uova, le uova si spostano qua, poi qui vengono buttate al secco. Ma se me le mette qui, immediatamente dopo vengono convogliate sul fondo. Quindi noi troveremo sul famoso colle le effimere già trasformate che vanno a deporre le uova, perché vengono poi dopo portate qua. Qui invece troveremo il mondo subacqueo dove all'apertura o in un momento particolare di nutrimento subacqueo è lì a ravanare sul fondo per trovare qualche larva, qualche ninfo, qualche larva. Questo era quello che vi ho detto, però prima stavamo parlando della colonna d'acqua. Quindi la colonna d'acqua dipenderà da, per esempio, con le piene che hanno lisciato tutto il fondo del Sesia, del Toce, di quei fiumi alpini dove ci sono tante quelle piene, la colonna d'acqua è sparita, è andata a zero. Quindi direi che noi siamo proprio vittime di… non so se si può dire vittime, ma i nostri vecchi dicevano tu i pesci li vai a prendere quando loro ti permettono di farci prendere. Quindi non devi prendere per forza dei pesci, perché allora li hai comprati, li hai… devi prenderli quando loro ti dicono di potermi prendere, perché ci saranno delle condizioni particolari che si fanno prendere. Sono salto dal palo in frasca, ma è perché non ho un tema… però serve tutto. Andiamo avanti. Ora, raccontaci la storia del gatto col topo bianco, il topo nero. Ecco, poi dopo dipende appunto anche da come uno va a pescare, perché il principiante deve per forza trovare i vantaggi, è come se uno deve imparare qualcosa deve trovare la maestra che glielo insegna e quindi i vantaggi sono quelli di trovare delle facilitazioni, che noi pescatori li possiamo trovare andando nel posto miracoloso o andando nel posto da pagarlo. e poi dopo quando diventa critico il pescatore è chiaro che non cerca i vantaggi, cerca l'handicap, cerca, dice, tutti non vanno là perché non si prende niente. Ci vado io. Non prenderò niente, ma io devo andare lì. sì. E per questo io vi racconto questa storia qua, per capire che pesci noi andiamo a prendere. in una cantina ci vive un gatto. Questo gatto al buio è abituato, gli si sono sviluppati degli occhi grossi così e delle zampe con delle unghie lunghissime che quando vede nel grigiore dell'oscurità un grigio diverso, pam, lo prende e quello è un topo. E quindi quel gatto lì si nutre perché diventa bravo per nutrirsi. Quel gatto lì, il giorno che si vede arrivare un topolino bianco si spaventa. Non esiste in una carbonaia. Allora si spaventa. Quindi invece il nostro soriano che abbiamo in casa lo mandiamo giù in quella cantina lì, finché non arriva il topolino bianco, lì non mangia perché non è abituato a prendere quei topi lì, no? E quindi questo ti dà l'esempio anche di che tipo di trotta vai a pescare. Perché se andiamo a pescare dove le hanno messe dentro da un mese anche, ma questa trotta che dentro da un mese sa che cos'è l'arco dell'anno, sa che cosa sono tutte queste cose qua. È dentro da un mese, poverina, non sa niente. E quindi dovremmo pescarla con delle mosche attraenti, non imitanti. Perché l'artificiale, io gli ho dato un nome, le mosche che noi peschiamo facciamo. Io ho dato un nome che non gliel'ha dato nessuno, però in sintesi, in due parole io dico tutto. Io lo chiamo impressionismo funzionale. E qui è detto tutto, perché è un impressionismo di bicchiere, ma deve essere fatto in una maniera che quando lo metto giù sta dritto, che deve tenere l'acqua in una certa maniera, eccetera, 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 quindi impressionismo funzionale. Bella, non è questa? Vero? Impressionismo funzionale è che contro di più è la funzione, perché allora io con una coda di topo e un finale attaccato a un amo, un pezzo di stagnola, io prendo i pesci, ma non è più un'imitazione della mosca stagnola. È chiaro, quindi allora non sto a farlo quel mestiere lì. Io una volta avevo fatto delle mosche grandi così, con la palettina che sembravano di cucchiaini, ma grandi, grandi, con l'amo del 10, del 12. Mi sono rifiutato, chi è che le ha ancora? Mi sono rifiutato di adoperarle, perché ho detto, ma non posso pescare a mosca così. È un po' quello che sta succedendo, però siamo zitti perché siamo in diretta, quindi... Allora, avete capito, quindi non so, non vi dico di cercare subito l'handicap, cominciate ad approfittare a trovare i vantaggi, poi dopo l'escalation deve essere quella. Dimmi. Io che sono un principianto, un consiglio da dare a un principianto che inizia a... Beh, un consiglio da dare a un principianto è andare in un posto dove gli altri non vanno perché sono tutte piccole. Almeno tu ogni lancio è una domanda che fai e hai una risposta e quindi domanda più risposta arricchisi il tuo schedario. Non devi andare in un posto dove altri vanno a prendere il trottone perché tu hai solo una domanda e una risposta e se la domanda l'hai sbagliata hai finito tutto. Ma se invece vai dove ci sono delle trottine piccole, cavendanini piccoli, che cazzo ne so, che roba ne so, ne prendi uno e capisci il perché, ne sbagli un altro e capisci il perché e tu impari. Poi Sandro, tu 30 anni fa quando ho iniziato a pescare con te ero agli inizi e io volevo lanciare lungo. Tu mi dicevi lancia corto così vedi quello che succede e impari. Certo, quello che ha detto lui. Non solo, ma più entri nell'acqua, più lungo lanci, più coda di topo hai nell'acqua, meno pesci prendi perché è sempre un disturbo continuo, c'è tutte le vibrazioni, le onde, le luci, i riflessi, i movimenti, i vestiti. Quindi il pescatore, gli altri pescatori non lo devono vedere, perché le mimetisano. Un attimo di pazza. Sei a posto? Mi raccomando. Ci abbiamo anche sul genitore qua. No, lo devo trattinare sulle parole. Non c'è nessun altro, mi domandami anche delle stupidate, dai, bravo. Ti dico una cosa, siccome io mi ricordo quel libro di Albertarelli a pesca col campione, che descriveva cose che non ho fatte in tempo a vedere. Colume. Stavo parlando di un libro di Albertarelli. Mario Albertarelli, sai, era un mio amico, sì. A pesca col campione. Quando descriveva il Ticino sembrava che piovespe, perché c'erano i negroni, i temoli del Ticino, che bollavano. No, un momento, Albertarelli sul Ticino parlava del Zavattoni che pescava camolera. Sì, vabbè, questo fa. Eh, pescava camolera che lì, eh. Ma pescava camolera, beh, comunque i temoli c'erano che bollavano. Eh, ma i pesci che bollavano sul Ticino, ho fatto tempo a vederli io, ma fino al 70, poi basta. Come sono cambiato, ma la mia domanda era questa, cioè, per non vivere di ricordi, secondo lei, visto che i pescatori moschi sono anche dei conoscitori del fiume e della natura, di tutti i vari... Cioè, tu vuoi sapere le notizie sul Ticino? No, io dico... No, ma te le dico, te le dico. Aspetta, ma tu mi hai la domanda. No, no, dimmi, dimmi, dimmi la domanda, dimmi. No, cioè, siccome ognuno dice la sua veglia, conosciamo i problemi, gli allotoni, le captazioni idriche, eccetera, però certe cose sono ineliminate, come gli allotoni. Io adesso non voglio proporre la mia soluzione, perché sarebbe una soluzione parziale. Lei, che ha vissuto sul fiume, cosa dovrebbero fare i signori che fanno parte degli enti, e che magari ricevano delle sovvenzioni alla comunità europea per riportare un po' i fiumi... Ma non va bene la fame, non va bene la guerra, non va bene l'economia, vuoi che vada bene la pesca. Ma la pesca la cenerentro, la possono andare, i pescatori possono andare a... Se tu vai in un posto dove c'erano i pescatori e adesso c'è le canoe, c'è le canoe, loro ti dicono, oi, il pescatore veniva a chi, beva un caffè e poi dopo non lo vedevo più tutto il giorno. Questi qua fanno la discesa tre volte, vengono qua, mangiano e mi svuotano il negozio. E questa è la natura. Io lo so che tu vuoi andare a pescare sul Ticino comodo, tranquillo, ma lo puoi fare ultimamente, perché il Ticino è cambiato ultimamente. No, no, è cambiato ultimamente, perché se tu vai, puoi andare, c'è qualche cosa da pescare. Vero? Ecco, vedi quelli che abitano là, vedi quelli che abitano là. Non divulghiamo... Dimmi, dimmi. Allora, io sono nuovo, nel senso non nuovo, purtroppo... Ma di zecca però. No, non tanto. L'ultima volta che ho pescato mosca forse era trent'anni fa e ci sono un po' di mie mosche sulle piante, fondamentalmente vicino... A un momento, tu sei nuovo del fly, ma pescavi però trent'anni fa, perfetto. Sì, però sono un pescatore tradizionale. Bene. Sono cresciuto in famiglia col papà, mi ha portato in giro per il Ticino, ho portato dei suoi vecchi amici, quindi il fiume lo conosco. Ultimamente sono tornato con i miei figli più piccoli, in posti meravigliosi dove ho preso pesce, non ho trovato più nessuno. Non ho trovato nessuno che pescava, ho trovato le spiagge... Una volta ti ricordi che mettevo gli ombreloni per tutta la spiaggia? Pieni di rampicanti, le sponde... Ma ci sono pesci adesso, vero? Non lo so, perché io ho detto che non pesco più in maniera tradizionale, ho un mio amico che ha fatto anche un po' di esperienza, mi ha detto che andiamo a farci qualche tiro con la mosca perché voglio andarmi a divertire in una maniera diversa. Ma se tu sei contento di qualche cabello e qualcosa c'è, anzi qualcuno ha preso anche qualche trota. Vittorino non ti sento parlare, il Ticino è la tua patria. Diciamo che non ha visto la stagione di pesca del Ticino. Senti, guardi, io ti sento poco. La stagione di pesca del Ticino va in base alla migrazione dei cormorani. Adesso stanno arrivando a Ticino, il pesce del Ticino sparirà fino a quando loro ripartiranno. Probabilmente allora siamo in mezzo, siamo in mezzo nelle parentesi dei cormorani. A Mosca, soprattutto a sommersa, a scendere così, si prendeva. Qualcosa c'è ancora, ma soprattutto anche i caverni grossi, perché quelli lì i cormorani possono ferire. No? No? Va bene, andiamo avanti. Allora, dimmi qualcos'altro. Qualcos'altro, cioè, secondo lei, come ripeto, per non vivere di ricordi, perché qualcosa c'è, ma i soldi... Devi camminare, devi andare in giro a cercarli. No, ma io ho sempre camminato tanto... Eh, appunto. E già quello è un bel divertimento. E già quello è un divertimento antico, però... Quando ero militare, i primi quattro anni mi mancava la Ticino, non mi mancava la mia famiglia. Quindi ho questi ricordi, però mi sono detto, con la capacità riproduttiva che ha il pesce, sono rimasto sempre stupito che mai nessuno abbia trovato qualche cosa... Ah, tu dici una formula politica da doverlo rilanciare, una roba del genere. No, una formula politica. Cioè, si dicono tante cose, anche che, diciamo, i cambiamenti climatici hanno rivoltato le acque del Lago Maggiore, per cui, diciamo, che entrano nel Ticino in un modo diverso. Magari vi fuorrestando le sponde, non so se si potrebbe un po' rinfrescare l'acqua. Il primo problema è... Beh, tu sai che l'acqua... Tu sai che l'acqua comanda di tutto il fuoco, quindi quando lei dice che qui non deve esserci la sponda non c'è, quando arriva, eh. Quindi non puoi tanto modificare geologicamente. Piuttosto è che non c'è, non c'è una grande ricerca, una bella ricerca per lo sport della pesca. Ma com'era prima? Eh? Com'era prima? Perché prima, io vivo di ricordi di mia nonna ancora, che mi diceva... Beh, attenzione che i ricordi sono sempre più grossi, eh. Però, quando ero io un ragazzo, quindi parliamo di 70 anni fa, prendevo la corriere in Piazzale Baracca, andavo giù a Turbigo, Castelletto di Cugionno, eccetera, eccetera, e pescavo Cavedani, Vaironi, ogni tanto prendevo qualche trotta o qualche raro temolo. Ma, sto parlando di 70 anni fa, tante, 75 anni fa, qualcosa c'è adesso perché, non so, c'è qualcuno che va lì e mi dice che, visto che è stato abbandonato da tutti i pescatori, perché una volta c'erano i pescatori così, addirittura andavano giù con le famiglie, ci mettevano in riva al fiume, eccetera, adesso non c'è più nessuno. Quindi, il non più nessuno vuol dire che magari la natura riprende un pochino, riprende un pochino in mano la situazione. Per qualche eletti sì, insomma, ecco. Allora, una cosa dico io, mi approfitto. Se pensate di arrivare a parteggiare la macchina e trovare il pesce lì, come una volta che pasturavi e prendevi, scordatevelo. Dovete camminare, camminare... Camminare a trovare il punto dove si sono sparsi. E guardare l'acqua e, come diceva Sandro, cercare di capire la colonna d'acqua, se entra un qualche rigagnolo che può portare cibo. Poi ci sono anche dei pesci strani nuovi, no? L'aspio, ci sono anche dei pesci nuovi. Bisogna donare il sangue al fiume adesso. Purtroppo una volta... Domandatevi qualcosa tecnicamente ancora, dai. Ma hai studiato gli insetti per fare il mostro? Hai studiato entimologia, hai studiato gli insetti per... Ma io ho dei libri, li ho letti, ma non mi sono messo a studiarli perché non penso tanto che il cervello del pesce sia così sviluppato. Perché il pesce, sappiamo benissimo, ha due funzioni. C'ha le funzioni e l'istinto. Quindi anche la storia dei colori, io non sono ancora certo, perché qua c'è tutto un discorso di colori, ma io non so. Piero Angel ha detto che gli unici animali che vedono i colori sono gli uccelli e i pesci, perché hanno solo la vista e un organo prensile. Noi i colori li vediamo per educazione, come abbiamo avuto per educazione anche il sentimento, perché ce lo insegna i segnitori e la scuola. Ma il pesce, insomma, io direi che si può far senza anche di studiare l'entomologia. Quando sai quelle quattro cose, che sono quattro cose generali, per me è sufficiente. Quando sai benissimo che una mosca in colore nasce dall'acqua, che con una mosca invece è colorata è perché il sole le ha temperata e le ha dato un colore vistoso. E quindi quella è estiva. Diciamo che i grandi pescatori del passato pescavano con quattro mosche. una grigia, una marrone, una nera e via andare, piccola, ricordiamoci sempre, e questo fa sempre parte della storia del triangolo, ricordiamoci sempre che l'acqua dove è liscia e la mosca deve essere piccola per fregare un pesce che quando sale ha in mano gli occhiali e la lente di ingrandimento. Hai capito? E invece quando hai corrente, vorticosa, nella schiuma bianca, eccetera, io la devo vedere, quindi un bel boccone, una bella moscaccia, e lì il pesce me la prende perché o mangia la finestra, o mangia la minestra o salta la finestra. Quindi quando sai queste cose qua io penso che tu possa andare a pescare tutto il mondo. Perché qua ci sono dei miei amici che appunto conosco da oltre 40 anni, non sanno che cos'è l'Elefimera in Itta, piuttosto che la Blue Wings d'Olin, piuttosto che… sanno quelle 4, 5 o 6 cose che sono sufficienti per andare a pescare. E io direi di concentrarci su quello. Quindi ti concentri su quello che è l'attrezzatura, adesso arrivo, eh, su quello che è l'attrezzatura che ti possa permettere di manovrare questa canna, questa frusta, questa frusta, che ti può permettere di mettere l'artificiale in una qualsiasi posizione, da una qualsiasi posizione. Quindi è importante pescare dove c'è sporco, dove sono le piante, dove non pescano gli altri, perché se vai nel raschio da libro ci hanno già pescato tutti gli altri, no? e quindi l'attrezzatura che ti permetta di quel coso lì. Poi hai quelle minime cose, la tua scatola con dentro un panorama di 30-40 mosche in colori e colorate e nere in due taglie, te la contenti. Dopo quando fai il difficile su delle cose più difficili, allora diventa cosa. Dimmi. Dimmi che molti di voi si stanno accimentando. Oh, codio, non ti sento. Molti di voi si stanno accimentando nella costruzione. Per la costruzione, sì. Anch'io. Le mie spiome lasciate. Ma perché non vieni un po' più vicino che io? Non ti sento. No, 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 ecco, metti lì, bravo. Molti di voi si stanno accimentando nella costruzione. Anche io. Le mie mosche un po' prendono, ma le sue di più. Perché? Che cosa rende una mosca più catturante? Mille variabili. Come le mie? Ce n'erano un po' che avevo... Sì, le sue. Io sai che ci avevi lasciato quei cartoni... Ah, sì. E' a chiampano. Allora. Anche lì ci sono delle nozioni generali. Prima di tutto, l'arte del fly dressing, io la traducco in milanese, faccio un tuchel dei fil dei siedi e intorno a un fil dei feri. Traduzione letterale. Hai capito? E poi bisogna sempre avere un comportamento sul liquido, sull'acqua. E un comportamento dell'acqua è che la mosca deve essere, la mosca secca, deve essere galleggiante con minor materiale possibile, perché sennò diventa un gnocco, diventa un panino, un panino imbottito, invece deve essere diafana, leggera, sottile, deve galleggiare il più possibile con meno materiale possibile. E quindi che cosa fai? Fai una ricerca sul principio di massa-peso. No? Quindi, non so come dirti, insomma, devi fare delle mosche, la mosca secca deve essere leggerissima, deve essere leggera, deve essere sottile, deve essere trasparente, la mosca secca secca. E poi si deve... Non va caricata tanto. Eh? Non va caricata. Non va caricata. Va a capola. Non deve fungere l'acqua, ma si deve... Adagiare. Adagiare. Come gli insetti. Questo, poi dimmi altri problemi che hai sulla costruzione. Ma in realtà adesso, cioè, di stagione... Beh, intanto poi, quando fai le mosche, non devi farle solo davanti al computer o sul morsetto, devi provarle nell'acqua. E quando le hai provate nell'acqua, le riporti indietro e dici, questa galleggia, non galleggia, prende, non prende, la vedo, non la vedo. Hai capito? Cioè, devi testarle. Io le testo tutte le domeniche quando vado, perché... Io ho detto, Prumano, impressionismo funzionale, ma la cosa più importante è la funzione. Impressionismo va bene, posso fargli gli occhi azzurri, ma la funzione deve avere una funzione. Quindi è questo l'importante. Intendiamoci sempre per il discorso della trotta, quanto tempo è nell'acqua. Quindi, quando una trotta che è poco tempo che è nell'acqua, va bene presentargli un bel... Una bella matassa sull'amo, quella la prende. Ma se andiamo incontro a una che sta mangiando per conto suo, quello che le dà la stagione, e tu arrivi lì, devi vedere un po', no? Poi dopo è sempre il manico quello che conta, eh? A un certo punto è sempre la presentazione, quella che conta. Basta, poi dopo questo qui sarebbe tutto un ragionamento a sé, la costruzione delle mosche, c'è Rinaldin che anche lui vi ha insegnato, eccetera, quindi ne sa qualcosa anche lui. Altre domande? Parli sempre di presentazione, Sandro. Di presentazione dell'esca sull'acqua. Quanto pesa la tecnica di lancio sulla presentazione dell'acqua? L'ideale sarebbe arrivare con un drone, sopra dove devi mettere la mosca, calarla giù col filo e tagliare il filo. L'ideale è quello lì. L'ideale è quello lì. Cioè la mosca deve scendere con la sua velocità. Quindi tu devi mettere questo cavolo di coda di topo in maniera da schermare il disastro che fa la corrente. Quindi si impara a lanciare meno dritto. Perché il lanciare dritto vuol dire che la cosa di topo viene influenzata dalle correnti. E quindi bisogna imparare a lanciare come le mie braccia. Così se la corrente viene da destra, così se la corrente viene da sinistra. Il famoso lancio curvo. E quindi per far questo si può anche teoricizzare. Perché alla fine queste cose qua bisogna farle in palestra. Però, o in palestra o sul fiume. Però si può teoricizzare. Se tu vedi dall'alto, dal drone famoso, il pescatore, la lenza al pescatore alla lenza fa un otto. Fa così, così e così. Quindi è già capito che cos'è che devi fare. Perché se vuoi metterla giù così, devi chiamarla di qui. Se vuoi metterla giù di là, devi chiamarla di lì. In modo che poi torna in quella maniera che deve tornare. Questo loro lo fanno anche con la canna a due mani. Devono stare attenti come devono fare. Vero? Andiamo avanti, dai. Quanto è importante per lei fare un corso base per iniziare? Il corso ti abbrevia la strada. Dipenderà poi dopo... Ma uno può fare anche... Perché guarda che questo tipo di pesca, c'è tanta gente che sa tutto. Ma sul fiume c'è andata poco, veramente. C'è gente, come diceva, pescatore da tastiera. Che sanno tutto su internet, conoscono tutti i nomi delle marche, delle cani, di tutto. Ma poi sul fiume sono andati quattro volte in quattro anni. Quindi, mi spiego. Quindi, il corso... Ecco, l'olipo può anche aver fatto tutti i corsi del mondo. Però non sviluppa. Lo sviluppo... Tu devi avere un corso iniziale, come appunto ti ho detto nella fotografia, di dire quali sono i diaframmi, che cos'è la velocità, e perché usare la velocità piuttosto che i diaframmi. Ma dopo devi fare le fotografie. Devi sbagliarle. Perché addirittura devi arrivare a creare un tuo stile. Perché, come diceva Einstein, diciamo che copiare quello che ti dice il corso, che ti fa copiare, ti fa fare le cose giuste. Perché copi. Però, se tu copi, non sbagli. Ma però, se non sbagli, non ti crei la tua personalità e non inventi niente. Io faccio delle cose che all'inizio erano errori, errori madornali. Però ho visto che mi hanno dato certi risultati. E quindi pian pianino mi sono diventati, non dico uno stile, ma un mio sistema. Fare le mosche è lo stesso. Fare le mosche io mi nutro dal principio. Io, sulla mia pagina di Facebook, c'è una scritta, che è Jeep. Quella della fuoristrada, Jeep. Sapete cosa vuol dire Jeep? Nessuno sa cosa vuol dire Jeep. Io l'ho saputo da un mio amico in Cile. Jeep vuol dire Just and Out Essential Peace. Fatta solo coi pezzi essenziali, che è la Jeep militare, no? Quella che poi dopo la mettevano in una cassa di legno e la mandavano giù col paracadute. Jeep vuol dire Just and Out Essential Peace. Non lo so l'inglese io, però so che cosa vuol dire. Nessi? Hai capito cosa vuol dire? E quindi gli attrezzi, a che cosa devono servire, è quello lì. Dimmi, dimmi. E mi ripeti, il motivo per cui nelle tue mosche c'è l'asola di Niagara? Allora, tutte le cose che io parto a farle le faccio sempre con l'economia. Perché l'economia è Jeep, l'economia è semplicità, l'economia è personalità. Non è tirchio, perché non è tirchio, non è... Allora, l'economia significa che io avevo degli ami e volevo modificarli come piaceva a me. Però, modificandoli, lo so per esempio degli ami a gambo lungo, era troppo lungo, le ho accorciavo, no? Tac, e l'ho tagliato e ci ho fatto l'occhiello di nylon. L'occhiello di nylon significa che è la gamba del amo con un pezzo di filo del 25 che passa sotto e viene impiombato sopra. Mi si è dimostrato bello comodo, grande, comodo da infilare. Ma quello che invece mi si è rivelato è che io ho tolto l'attrito del ferro sul prodotto plastico, che è il filo. Perché il filo di nylon, io adesso qui non c'è un pezzo di nylon, no. Il filo di nylon se ha una piega viva si rompe, plastica, non lo sapete com'è, no? E invece se è avvolto su un altro pezzo di nylon morbido, è ammortizzato, c'è l'ammortizzatore. E io non rompo più, posso mettere sul 12 e non rompo più, perché è legato sopra un materiale flessibile, che è l'altro nylon, chiaro? Poi dopo qualcuno che magari le compra da me e poi dopo dice, eh cazzo me l'hai dato, me l'hai dato e col tronchesino l'ho tagliato. E sono detto, guarda che quel filo lì è del 25, no, quel filo lì è, no ma il filo è del 25. Pah! Tanto il mio è il 14, il 16, il 12, pah! Tanto quello è il 25. Io non lo adopero il tronchesino, lo rompo. Chiaro? Allora mi si è dimostrato proprio di avere quel sistema lì che a me ha avuto dei vantaggi enormi, ed è un sistema che mi è nato in tasca, capite cosa voglio dire? Cioè non l'ho letto su un libro, mi è nato in tasca, mi è nato, per un bisogno mio. E quindi tutti questi sistemi che nascono in tasca sono i migliori proprio perché sono sofferti. Sono sofferti, cari miei. Forza, qualcos'altro. Se no qua finisce il tempo, ti mandano via. Raccontaci quella storia che mi hai raccontato del tuo amico che pescava i temoli e andava su tutte le bollate. Tu gli hai detto, devi fissarti su uno. Ah, quella del... Eh, vabbè, ma quella è una storia. Ah, è divertente. Una volta ci trovavamo tutti, negli anni Ottanta, ci trovavamo tutti in sede perché era ricchissimo di temoli. Faceva paura, era pieno di temoli. Meraviglioso. Però il temolo è un maestro delle... Ecco, così almeno allaccio anche i discorsi dell'idraulica. Il temolo è un maestro del nuoto, no? Perché intanto è sempre sul fondo. Quindi ha la bocca sotto e principalmente si nutre sul fondo. Però in autunno, in estate, non si nutre più sul fondo, non c'è più niente e deve venire per forza in superficie. Quindi tutte le volte fa una salita che è molto lunga e diversa da quello che è la trota. Diciamo che la trota ha una caccia sulla mosca, diciamo, circolare. Cioè può spostarsi nella sua linea. Temolo no, il temolo ha la bocca sotto, quindi se si sposta fa un casino. Quindi si alza, succhia e poi torna sotto, sul fondo. Perché sul fondo l'acqua ha una velocità inferiore a sopra. Da sopra a sotto sono dieci volte la velocità delle volte. Quindi quando sta sotto sta tranquillo perché la corrente passa sopra. Però se passa sopra deve perforarla per andare a prendere la mosca. E quindi quando lui vede arrivare a una vista particolare, no? Poi è un insettivore, quindi deve avere per forza una visione non come la trota che è anche carnivora. È un insettivore. Quindi quando vede arrivare un moscerino, molla le valvole. Lo prende e poi torna lì. Quindi il pescatore dei temoli sa già benissimo che deve fare delle passate molto lunghe, senza dragare. Perché deve tenere quella corrente che lui sa qual è. E quindi lì ci vuole già, è già un po' di destrezza ci vuole. Morale, anni 70-80 andavate sul... Ecco, bravo, perché l'avevo già perso io. Allora, io sono fragile perché sono 85 anni e sono fragile e posso prendere il Covid. Però sono anche labile di memoria. Fragile e labile. Come Buscaglioni. Buscaglione. Allora, il... Cos'è che mi avevi detto? Andavate sul Sesia perché... Ecco, pescari i temoli. Allora, il... Si andava alla fine settimana, andavano a pescare i temoli, poi arrivavano lì in negozio. A lunedì, presi, non presi, belli, grossi, piccoli, lunghi, laghi, questa, mosca, quell'altra. C'era uno scambio. E c'era un nostro amico, un carissimo amico che non ci sarà più, dent'altro, che lo chiamavamo il Cotimista. E lo sa, te l'hai conosciuto? Cotimista. Cotimista. Cotimista perché, poverino, lavorava su delle macchine in tipografia, la taglierina, no? Quelle taglierine grosse, no? E quindi lavorava fino alle 6 in un'azienda. Siccome però aveva dei problemi in famiglia, doveva guadagnare un po' di più. Veniva da me dalle 7 alle 8, 7 e mezza, veniva da me in negozio a chiacchierare. E poi andava a fare, poverino, l'istraordinario da un'altra parte. Dice, Sandro, mi importa, miseria, a me, io vedo lì sul Cesia, porca miseria, voi prendete il tema, lì io non riesco a prenderli. Dico, ma perché non riesco? Eh, perché io li vedo bollare, eccetera, eccetera. Dico, ma non, eh, dice, se io non riesco, cos'è che devo fare? Allora, guarda, allora, Osvaldo, Osvaldo, contimista, simpatico, Osvaldo, tu devi fissarne uno. Lui andava lì al chiesone di Bocca, dove c'era quella lama che era, ma no, la stracarica di temoli, no? Eh, tu devi fissarne uno, è quello lì che devi prendere. Te basta prenderne uno, è quello lì che devi prendere. Ti metti seduto sul sasso, guardi l'acqua, mangi il panino e cominci ad abituare quel pesce alla tua presenza, perché con la tua presenza, lui, potresti essere un albero, potresti essere un guardiapesca, potresti essere, e io faccio i miei cose, e il temolo si mette a bollare. Vedi come bolla, dove bolla, prepari l'attrezzatura e stai di fermo. Quando l'hai lasciato riposare un po', lo tenti. Se vedi che l'hai disturbato, eccetera, benissimo, tiri fuori, ti siedi, stai lì. Quello è il tuo temolo. Non devi rompere il capo, perché lui, no, poi, boh, un altro che bolla l'altro, tac, tac, un altro che bolla l'altro, e non prendi un cazzo, perché continui a correre dietro a tutti e non peschi niente. È così, eh? Ecco. Allora lo sbaglio. Si mette lì, mangia il panino. Quello che fa, io non lo so, l'ha fatto il sabato che è andato a pescare. L'unico di me ne l'ami diceva, allora? Dico, allora, te l'hai ciappato? No. Perché? E gli dice, stas, guarda, mi son messo lì seduto. Ho visto un bel temolotto che bollava, l'ho lasciato bollare bene, ho preparato la mia, quel moscerino dell'uva, l'olivio etto, ho messo il moscerino dell'uva, ho messo il filo del 12, ho fatto la prova del lancio, benissimo, ho messo lì fermo. Quando ho visto che era bello, inattivo, faccio per lanciarlo, vedo un polverone sotto e farò una marmoradalla ma mangia il temolo. Giuro, poverino, ha avuto il nemico sopra e sotto, gli ho mangiato il temolo. E lui il suo temolo l'ha perso. Altro? Domande! Quanto insistere sui pesci sbagliati? Eh? Quanto insistere su un pesce sbagliato? Eh no, se è sbagliato, beh, ma se è sbagliato, allora, anche qui è la storia del gatto, eh? Cioè, se è un pesce immesso facilmente, io ho preso di salmianino, l'ho preso tre volte. Pa! Arco di andato. Sta' attento. Si mette là. Ancora là dove era prima. Pa! 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 Arco di andato. Tre volte l'ho preso. Abbiamo capito. Tre volte, capito? Tre volte. Però ci sono altri pesci che arrivi sul torrente, ti alzi dal sasso e vedi una bella lama con su due trotti, una lì e una lì, appoggiate sulla sabbia. Tiro fuori la canna, metto sulla mosca. Vum, 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 vum. Ho alzato la canna, sono sparite. Alzate la canna, non io, eh. Quindi, tu capisci quanto tempo, eh, 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 dipende che tipo di pesce è. Allora, in quel caso lì, allora, beh, altro proverbio del Sandro, che glielo ho detto al Sant'Agostino e non l'ha capita. Cioè, non l'ha capita, sì. Per pescare le trotte devi avere le gambe. Cioè, vuol dire che il primo lancio, è quello che mi hai detto tu, ha il 100% di chance. Il secondo lancio potrebbe cadere a zero. Chiaro? Allora devi cambiare, andare in un altro posto e trovare l'altro primo lancio. Ci siamo? Per pescare il temolo devi avere le braccia, perché il temolo non va via, il temolo non ha casa, il temolo è omnivoro di insetti, mentre il latrota in quel momento sa che cos'è che deve prendere, no? Allora, le braccia vuol dire che... No. No. Centesimo lancio. Macchio di mare è venuto a sua destra. Il milanese. Desisto. Eh? Il milanese, se ha pescato la trotta, che vuoi? Le gambe, le braccia, le gambe. Il milanese, il milanese. Che vuoi le gambe? E per il temolo? Ibrash. Curiosità. Qual è il tuo pesce preferito da prendere la mosca e perché? La trotta. La trotta. L'affario, Dio, l'ha creata per pescarla con la mosca. Dio l'ha creata per pescarla con la mosca. Non è neanche la marmorata. L'ha detto a te. Perché la marmorata è stupida come la luna. È l'affario. E non grossa. L'affario... Porzione. Porzione. Quella da ristorante. Padella da 32. Cioè, hai capito? Hai capito? Perché... Perché quando io pesco le trotte, io mi accorgo che parlo da solo. col temolo, col temolo, col temolo, col temolo è... Ma di tanti l'ha detto anche Ritz. I grandi pescatori del passato hanno detto che la trotta ha... Il temolo ha un comportamento germanico. Cioè, cuccato la velocità, il tipo di mosca, la presentazione per uno, le prendi tutti. Ne prendi una buona parte. Quindi il comportamento germanico. La trotta ha un comportamento latino. Ognuno ha fatto il cavolo che vuole. Dipende dove è venuta fuori. Dipende dov'è. Dipende quanto è vestita. Dipende da tante cose. Questa era la risposta a quella domanda. Ma la domanda cosa mi hai domandato? Mi ricordi? Qual è il tuo pesce preferito? Ah, eh. Perfetto. Difatti, quando ti ho detto prima delle canne di legno, del Marchese dal Pozzo, eccetera. Era il Fario Club. Cioè, Ritz aveva fatto le canne e aveva... Era lo chef tecnico di una casa francese che faceva le canne da pesca mosca, no? Di legno. Poi dopo le ha fatte in graffiti, eccetera. Di legno. E quindi girava il mondo per cercare i maestri di pesca locali, per fargli la canna su misura, per far sì di venderle. Hai capito? Quindi a lui interessava che andassero a pescare i temoli. Perché i temoli adoperi bene la canna. Con la trota la canna la adoperi, ma la adoperi prima di tu di adoperare le gambe. Allora trovi il pescatore zingaro locale che ha una bacchetta delle noci, però sa dove deve andare per pescare i pesci. È chiaro, no? Questo discorso, no? Scusi, una domanda provocatoria. Scusa? Una domanda che di questi tempi sembra essere un po' provocatoria. Ma lei il pesce che prende qualche volta lo mangia? No, ma il pesce non piace, mi piace appena appena quello di mare. Una volta noi non c'era il no kill, non eravamo abituati al no kill. Quindi andavamo a pescare in posti dove c'era la quota di tre, quattro, cinque, sei pesci, non temoli. E magari ne portavo a casa un paio perché avevo sempre qualche amico o qualche amica, meglio ancora, che mi chiedeva, fa messaggiare le trote. Addirittura avevo mio suocero che era uno svizzero, un cacciatore di bianche in montagna, quindi era uno che era esperto di selvaggina. Io sono andato a pescare sul chiese in Valdaone e alla mattina abbiamo pescato in alta montagna, in Val di Fumo, no? E ho preso delle trote, ne ho portato a casa quattro o cinque per lui che le voleva mangiare in quel giorno lì. E alla sera siamo andati giù alla fine dove il chiese quasi entra nel lago a pescare delle altre trote. Sto sacrametto dell'amica ha sentito i due sapori. Per me pesce era pesce, io non me ne intendo di pesce, non lo mangio, è per quello, capito? Lui ha capito e sentito i due sapori, dello stesso fiume e da un'altitudine all'altra. Probabilmente la densità, il nervoso, quel che l'è. Adesso siamo abituati a mollarle dentro perché ce n'è così poche che alla fine le mollo anch'io che una volta non le mollavo, insomma. È giusto che debba essere così, che ne è poca. Bravo Vittorino, finalmente! Hai detto chiaramente che preferisci l'affario. Una iridea non lanciata. Ebbè è bellissima anche quella. Iridea di quelle da... Gli Americani preferiscono l'iridea. Ascoltami, la trovi più difficoltosa nell'agganciarla oppure, sempre rispetto all'affario, oppure la consideri più facile? Ma può essere più difficile la mosca secca, perché non è abituata... Non è come l'affario che si nutre da piccola prevalentemente. Ma può essere. Può essere. Sicuramente, per me... Sì, sì, sì. No, ma poi, se prendi appunto quelle trotte iridee messe dentro, come quelle che mettevano una volta anche in Jugoslavia, eccetera. Che erano piatte così, bellissime, per la moda del cielo. Gli Americani, quando prendono la Rainbow... Uè, una Rainbow! Ha un'altra difesa... Naturalmente, in tanti fiumi... Ma sai, l'affario... Perché a me piace l'affario? ...delle sere con delle bollate di iridea che ti fanno un mazzo che... Sì, però, Vettorino, però, l'iridea è meno bella, sai perché? Perché non ha la casa. L'affario ha la casa. Ho capito. Eh, cazzo, che bello la casa! Ma quando l'iridea delle righe... Sì, no, ma... Ho avuto delle difficili. Oh, uè, è bello tutto, è bello anche il cavendolo quando è difficile, eccetera. Però... Cioè, hai capito cosa intendo dire? L'affario ha la casa. E quindi la casa vuol dire che io pesco e mi sviluppo il senso dell'acqua. Perché l'iridea invece è vagante, lo sai, no? L'aspetto sportivo mi dà molta più gioia l'iridea che l'affario, eh? Sì, perché l'affario è un pesce che si guadagna un posto con un ordine gerarchico, con una protezione del posto stesso. Addirittura alcuni la pescano con l'esca artificiale che può essere il rapalà o quello che vuoi. Non tanto per insidiarla perché lei lo mangi, ma perché lei le dà fastidio un intruso nel suo posto e lo aggredisce. Quindi quello vuol dire che ha una casa e quello per me è un divertimento della Madonna, un divertimento fantoloso perché... Perché se tu vai in un torrente e scopri dove sono le case, a parte il vantaggio, ma è anche bello. Perché proprio... Tu sai dirmi perché... Difatti noi abbiamo due fiumi che vengono giù dal rosa, uno è il Sesia e l'altro il Tocce, dove vado io. Il Sesia gli americani lo chiamano il fiume con le tasche. Cioè vuol dire che ha i blocchi di granito, i sassi di granito, che formano questa idraulica in movimento dei sifoni, delle tasche. E lì dove butti dentro le trotte e le metti, lì ci stanno. Hai capito? E poi, soprattutto, quel buco lì lei lo conosce, sa dove arrivano le mosche, sa dove andare a prenderle. Addirittura, quando andavo nei torrenti in montagna, sa da quel buco lì dove arriva l'uomo. Perché c'è il sentiero nel prato e lei sa che arriva da lì. E lei cura quello. Quindi il fiume con le tasche, che sarebbe anche il torrente perché ha le tasche il torrente, è il fiume con l'abita da imparare. Il Tocce non ha le tasche perché è un fiume di monta, perché il pesce arriva dal lago e torna nel lago. E quindi sono tecniche diverse da adoperare. Però hai capito? Sono due caratteristiche di fiume diverse. E difatti nel Tocce non fanno semine, non immettono niente, perché quello che immettono poi va nel lago. Invece nel sedio dove lo metti, la cavalla, lì ci stanno. Lei pesca soltanto a secca o in queste case delle pari? Cosa? Lei pesca soltanto a secca o in queste case delle pari? No, io pesco in tutte le maniere. In tutte. In tutte le maniere come pescavano i nostri avi, come pescavano i veri maestri della pesca mosca. Cioè con un'esca leggera che me la porta la coda di topo. E se posso, come ti dicevo prima, lanciare la mosca e tagliare il filo è l'ideale. Quindi il mio concetto è sempre di presentarla in modo che sia più naturale e più libera possibile. A meno che non debba fare una pesca per eccitamento. Allora posso anche farla dragare, posso farla sciare. Però pesco sempre con esche non zavorrate. Perché zavorrata vuol dire che andrà sotto, sì d'accordo. Ma quando va sotto poi dopo c'è sempre un silage, un dragaggio che può servire come eccitamento. Quello sì. Difatti anche la pesca ninfa che appunto noi pescatore mosca secca disdeniamo. Se gli togli la pallina di tursteno, c'è un eno. Stavi dicendo, perché tu hai detto che la Fario ha la sua casa? Ed è giusto. Ti ricordi 30-40 anni fa in Sesia perché i tevoli cacciavano via le Fario? Non l'hai mai notato. Perché le mangiava le uova? No, perché... Ah, per tenersi il posto. Il temolo era più territoriale. Per tenersi il posto. La Fario arriva lì. Quante volte ho visto la Fario scappare davanti a un branco di te? E tu hai visto quello? Io ti dico invece cosa ho visto io. Sempre... No, 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 ma va bene, stai attento. Ti dico cosa ho visto io perché io l'ho visto con i miei occhi. Due cose ho visto e te le dico. In Sesia. Una volta ero lì dall'altra parte del chisone di Vocca. Dall'altra parte, cioè passando col cavo sul filo. Sono passato dall'altra parte. E stavo pescando in controluce. No, non ero in controluce. Ero andato dall'altra parte perché non ero in controluce. E vedevo i temoli. E pescavo che erano le ore vespertine, verso le 5 e mezza, 6. Quando cambiavano gli insetti. Beh, io ho visto un branco di tre o quattro temoli, ma grossi, che erano... Qua c'è la buca e qua c'è l'altra buca fatta alla stessa maniera. Erano in questa buca. A un certo punto di un'ora, che erano le 5 e mezza, 6. Io ho visto due o tre di questi temoli grossi che stavo curando. A far così, guarda. Oh! E mettersi qua. Cioè vuol dire che in quel momento lì erano sotto nella parte della colonna che premeva verso il basso. Ma loro sono andati avanti per trovare la colonna che prendeva verso l'alto per mangiare gli spinner. Gli ho visti cambiare territorio. Quindi, come hai detto tu, hanno mandato via le trotte, fario, perché in quel territorio in quel momento dovevano mandarle via. Ma questi qua hanno cambiato zona per trovare una situazione più comoda per loro. Ma te sei che mi sono meravigliato. Come mi sono meravigliato un'altra volta. Ti dico anche i posti perché me li ricordo. Queste avventure, ragazzi, vi capitano e non ve le dimenticate mai. Chiesa di Valmaggia. Dall'altra parte sempre. Sono là e tra me e il fiume c'è un masso, no? E sono lì che guardo e dal masso, alla fine del masso, vedo fuori la coda del temolo. Ah, è dietro al masso ma fuori la coda, dalla mia parte. Allora, lo provo e non viene in su. A un certo punto, dopo un po', vengono giù delle blu-dun, delle moschine grigio-azzurro, grandi così. Vengono giù e questo qui sale. Sale, una non la prende. Poi sale, si spaventa e la prende. Ma che cazzo sta facendo quello lì? A un certo punto vede che lui, lo vedo perché sono cose che avrai questi flash, ti saranno capitati anche a te. Vedo questo qua che sale, prende una di queste moschine e io in quel momento lì sono proprio concentrato e a fuoco. La moschina fa... Questo qui non si spaventa, si cosa? Apre la bocca, scende e questa capola va via. E io dico, e io dico, ma come? Vengono a prendere la mia mosca finta e questo qui con una mosca vera me la prende per le zampe e la molla perché lei si dibatte. Ma che... ma non vengo più a pescare qua. Hai capito? Così ho vinto. Cioè ho avuto la fortuna di vedere questo flash qua. È un flash, eh. Ne avrai avuto anche tu di flash, eh. Ho avuto questa fortuna qua. Ragazzi, ragazzi... Basta, andiamo a casa. Stiamo finendo la diretta, ma prima di finire la diretta volevo... No, ma ne odio queste cose. Ti tocca. Ti tocca. Ma ne odio queste cose. Guarda che la data non è quella di stasera, era dell'altra volta che c'hai fatto bucca. Ti tocca. Ti tocca. Molto volentieri, grazie della serata. Grazie a voi, ragazzi. Vi auguro... Vi auguro di arrivare a 85 anni e andare ancora a camminare sui fiumi. E questo l'ha detto Confucio. Perché Confucio ha detto ogni giorno che tu passi a pescare è un giorno di un'altra vita. di una vita diversa, di un'altra, di un'altra vita. Mi tocca farne un'altra. Da domani tutti a pesca. Grazie. Grazie. Ciao, alla prossima. Ciao. Ok. Porto casa il microfono. Ok.